e su allo scaranto e bentornati su incontri di storia questo è il vostro carvus di fiducia che vi parla ritorniamo su rom total war 2 desist total war spartan edition allora permetto che forse sarà un cadavere a parlare perché giornata al lavoro un po stressante nuovo lavoro e tutto primo lavoro e pesantuccio tra l'altro allora qui non c'era più niente da fare dovevo semplicemente passare il turno non avevo nemici nuovi ci avevo guardato la puntata scorsa sono sicuro sono perfettamente sicuro sennò questo video non lo vedrete vaffanculo pergamo ok se fossimo monetizzati questo sarebbe questo segnerebbe la fine della monetizzazione del canale riva vaffanculo conosco arriva vaffanculo libia riri riva vaffanculo scordisci riva vaffanculo riva vaffanculo riva vaffanculo riva vaffanculo no allora addio dai ce la puoi fare dai dai su su questi li libero faccio un po' di soldi via e voi siete morti e questi li uccido e fondamentalmente non mi è costato niente ho gli stessi soldi di quando avevo iniziato fantastico sempre il solito discorso poi allora vediamo cosa c'è da fare qua niente niente fondamentalmente niente si devo devo rinominare l'armata reale ma mi sa che semplicemente ne farò un'altra con il suo domizzatore di Carvus oppure quella lì me la tengo per una serie futura o gli scordisci sono già pronti con un'altra armata stupendo meraviglioso vediamo due qui e due di questi allora da costruire un bene amato cazzo come si suol dire esatto e niente ripassiamo il turno oh qui oh ottimo ecco non ho controllato se avevo fazioni a cui dichiarare guerra ma porca di quel mmm no mangiatemi la minchia voi vado man vado mani un cazzo vado mani un cazzo comunque come sempre voi siete quelli che livellate ok bene perfetto allora adesso come è male è messa maluccio tecnicamente li vedo arrivare vabbè per un po' rimane così è buona quindi appena voi siete pronti faccio il cambio l'altra picca non fa mai male e voi siete pronti dopodiché farò il cambio fra i generali ah guarda li posso costruire allora commercio industria qui cos'ho che fa mi aumenta il commercio quello tecnicamente industria manifatturiera ho questo 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 non questo boh poi ho usato tutti i miei soldi fantastico qui se non ci fosse questa armata avrei già fatto un bel po' di danni sono seriamente tentato di prendere brindisi aspettiamo che questo esercito sia pronto e vado qua non sto guarda non sto neanche a fare il cambio chi se ne frega no fammici pensare allettante ma no allora se ne frega di questo ok 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 interessante come l'ordine pubblico vediamo eh vabbè vado così un po' meno di soldi ma amen non so se riesco a fare un imboscato no decisamente no allora allora vi lascio qui tanto loro il giro non lo possono fare loro neanche ottimo ora in tempo un turno credo due massimo oh 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 ottimo mi chavo via un po' di nemici la gente nuova no arrivano degli altri romani di merda a rompere andiamo eh vaffanculo potrei aver bisogno di cibo potrei aver bisogno di cibo niente allora passiamo mh mh molto interessante Interessante. Il fatto che sia in una fresta mi sta molto sul cazzo. Perché non si vede niente. Perfetto. Oh, perfetto. Vediamo. Ho più cavalleria. Anche se la loro... Cioè... La loro è... Belenus, fantastico. Vediamo. Un frombogliere, un giavellottista. È molto fattibile questa. Molto. La gloria di Oppone non ha cavalleria. Meraviglioso, meraviglioso. I figli di Smertrius. Non vedo l'ora di fare una campagna con una fazione gallica. Sono le mie preferite, decisamente. A proprio livello di gameplay. Non tanto per motivi ideologici, richiamiamoli così. È proprio una cosa di gameplay. Mi divertono troppo. Allora... Allora... Mmh. Boom. Fate a cagare così. Voi fate così. Allora... Uno e due. Uno e due. Uno e due. Uno e due. Via. Non avevo contato dove era il generale, ma chi se ne... Tu qua. Allora... Che voglio rileggere, che voglio rileggere. I pesanti sono qua. Allora... Allora... Allora, voi venite qua. Voi, direttamente qui così. Ottimo. Abbiamo deciso che voglio non suicidarsi. Eh... Questo giro qui, questo l'ho gestita male io. Allora... Voi tirate qua. I cavalli ripesanti lì sono morti. Voi venite indietro. No. Allora, venite qua assolutamente. Loro sono andati. Perfetto. Allora, di ve ne basta uno. Voi andate qui. Non, non. Voi andate qui. Dov'è l'altro mio... Ah. Sì, allora. Loro sono molto, molto cattivi. Ovviamente i cavalieri nobili sono una delle unità di cavalerie più forti del gioco. Non a caso. Vabbè. Qua è un macello come immaginavo. Voi state come fate così. Perfetto. Voi venite qua. Voi venite qua. Voi venite qua. Ok. Ok. Tutti e due generali sono morti. No, no. Venite indietro. Voi là. Che so fate voi? Ah. Oddio. Perché camminate? Voi venite qua. Vabbè, sentite. Venite qua. Allora, voi tirate qui. Voi non tirate. Allora, hanno deciso che si vogliono suicidare. Vabbè, vabbè per loro. Venite qua. Che bello che non è come nell'uno. Allora, in Rom 1 era più realistico, ma era fastidioso comunque. Le tue picche uccidevano i tuoi cavalieri. E li uccidevano molto molto efficacemente, tra l'altro. Anche perché con un colpo uccidevano tutti. Allora. Aspetta. Allora, penso che ci vuoi. Allora, penso che ci vuoi. Ok. Il centro. Stanno assumendo un po' di perdite qui. Vabbè. Amen. Adesso tanto tutti i generali sono morti. Che cazzo fate voi? Ok, ho vinto. Vabbè, questa non era difficile, ma proprio per nulla. Che cosa state facendo? Vabbè. Ma dai, non pensavo! Adesso... Eliminate un po' di fuggiaschi. Che cosa sa, che c'è un po' di fuggia? Vabbè, loro anche sono fig arkadaşlar. Vabbè, non è un po' di fuggia. Quindi, non vai? Di euro. Questa è la parte più pallosa di tutti i Total War fondamentalmente. Ora, tiratevi gli spadacini perché sono quelli più pericolosi. Ah, più che altro, se non avete visto il mio video di lunedì di storia andatelo a vedere. Ed è, questo è un ordine proprio. Questo è proprio un ordine. Dai, su, raggiungeteli. Su, su, su. Ottimo, ottimo. Non è che muoiono tutti questi. O quasi. Ok, via. Sì, com'è di misura me lo dici te. Però vabbè. Eh, cosa volete che vi dichi? Due novantaquattro. Tre e dodici. Beh. Beh. Quattrocento quarant... Quattrocentotrentasette. Quasi quattrocento... Trecento novantatrè. Beh dai, non sono male questi numeri. Anche i fromboglieri di danni un po' ne hanno fatti. Presumo ci siano poco unità superstiti. Due qui e due qua. Beh dai, meglio. Allora. Tu qua fai questo. Tecnologie... Allora, considerato che voglio assolutamente del cibo. Andiamo così. Poi. Questo. Sei te. Ottimo, ottimo, ottimo. Poi. Allora. Ma sì, dai andiamo. Allora, uccidiamo gli scordisci. Che mi aprirà un po' più di fronti ma... Amen. In realtà questa città fortificata è necessaria. Allora, radina al suolo. Azione distrutta, perfetto. Allora, breuci. Andate a fare in culo. Mi ravisci. Uh, si sono espansi i getti. Andate a fare in culo. Ricostruiamo la città d'Akaku. Mettiamoci questa così. Ok. Allora. Adesso. Qui ci pensano queste armate a difendere. Io tecnicamente dovrei... Allora. Obiettivi finali. Sì, dovrei espandermi più che a nord. Dovrei espandermi a ovest e ad est. Però, beh, cosa volete che vi dica? I confini li devo rendere sicuri. E qua così sono sicuri adesso. Poi. Vediamo. Io vi saluto. Ci vediamo alla prossima. E... Fatemi tanti auguri. Per tutto. Perché sono un po' sfavato. Ciao.